Lungomare off limits, la gente si sposta al corso. Missione riuscita a metà ieri a Salerno, dove il sindaco Vincenzo Napoli ha disposto la chiusura del lungomare cittadino per i fini settimana. Se l'area interdetta era vuota c'è stato invece un abbondante passeggio per tutta la giornata al corso Vittorio Emanuele. A sorvegliare che tutto procedesse in maniera ordinata nel rispetto delle norme anti-covid c'erano le forze dell'ordine ma anche il sindaco stesso. In serata in una nota stampa i componenti della maggioranza hanno tenuto a sottolineare che la chiusura di un lungomare, di una villa o piuttosto di una piazza sono segnali affinché i cittadini comprendano la serietà del pericolo e limitino le occasioni di contatto allo stretto necessario, evitando uscite superfule ed assembramenti che possano agevolare la propagazione del contagio. Precisano anche che si è inteso evitare scene come quelle verificatesi sul lungomare di Napoli, dimezzando gli spazi e le opportunità di assembramento. Sul corso Vittorio Emanuele è stato anche previsto il servizio dei volontari della protezione civile per garantire il regolare deflusso delle persone, spiegano i consiglieri di maggioranza. Confidiamo, aggiungono che la città risponda come sempre con grande compostezza ed invitiamo tutti ad osservare le misure con il consueto senso di responsabilità. Un invito questo che ieri è stato divulgato anche attraverso un megafono proprio sul corso Vittorio Emanuele. Il lungomare resterà intanto chiuso da Piazza della Concordia alla spiaggia di Santa Teresa, villa comunale inclusa, per questo weekend e per tutti fine settimana fino al prossimo 3 dicembre, dalle 8.30 del sabato mattina fino alle 5 del lunedì.